Buongiorno a tutti, è doloroso partire con il Cisco Magagnato, il quale è stato direttore del museo, un grande studioso, fra i più grandi storici dell'arte, intenditori di arte italiani e anche un suo valore aggiunto è stato un eroe della resistenza. Questo è il Cisco Magagnato il quale in previsione della mostra dal Tichiero a Pisanello chiama Carlo Scarpa per restaurare il meraviglioso Castelvecchio e adibirlo naturalmente nella maniera più bella in Pinacoteca. Eccolo qui, vedete, vediamo già i restauri esterni di Carlo Scarpa, i restauri interni di questo meraviglioso nostro museo della città di Verona. Vedete, e poi il museo è legato anche al museo da Freschi che viene dedicato a Giovanni Battista Cavalcasselle che si trova alla tomba di Giulietta. Sentite cosa dice Federico Azzeri di questo grande genio della storia dell'arte, Giovanni Battista Cavalcasselle, al quale le dobbiamo le prime basi dell'attuale sistemazione storica della pittura italiana. Il nostro legnaghese è veramente un gigante, poco conosciuto, meriterebbe di essere molto molto più conosciuto. Vedete, e continua a dire il nostro Federico Azzeri che a Valcasselle girava l'Italia con i mezzi più impensati, assai spesso a piedi e quindi eseguiva disegni eccetera che oggi si trovano a Londra, a Victoria Albert Museum e alla Biblioteca Marciana. E questo disegno è il disegno che si richiama al dipinto di Stefano da Verona, chiamato Stefano da Verona, eccola qui, con la Madonna e con il bambino, la vediamo in questo Ortus conclusus, vedete in cui vediamo la Madonna predominante, vediamo la Santa Catrina d'Alessandria che è subalterna, soprattutto sotto il profilo della grandezza dei personaggi e qui ci fa capire che questi grandi artisti studiavano anche botanica, vedete, studiavano anche botanica, quindi è una Madonna in umiltà e anche la Madonna del Pisanello è in umiltà. Sono fra le ultime opere del gotico internazionale, siamo verso la fine del gotico europeo e sebbene il nostro Pisanello entri nel Rinascimento, perché quando Pisanello fa questo dipinto, la Madonna della Quaglia, dobbiamo sapere che Masaccio nel 1425 lavorava la Cappella Brancacci che è la prima espressione pittorica del Rinascimento, però c'è un discorso che non è che Pisanello non conoscesse il Rinascimento, lo conosceva bene, basta guardare la medaglistica di Pisanello e che era richiesto così. Mi dilungo un po' per chiarire anche queste cose, pensate che a Firenze la prima espressione rinascimentale con Filippo Brunelleschi architettonica è l'ospedale di Innocenti, a Venezia arriverà 50 anni dopo con Mauro Codussi, questo è molto importante, ma era anche un aspetto sociale che alcune città preferivano rimanere al gotico che darsi subito al Rinascimento. Eccolo qui, monumento di Niccolò a Brenzoni che si trova nella chiesa di San Fermo, vedete, e poi nella basica di Sant'Anastasia, la Cappella Pellegrini, meravigliosa, che poi qui c'è anche una polemica, qualche critico d'arte dice che bisognerebbe spostare l'affresco e metterlo, o addirittura in un museo, metterlo più in basso, eccetera. Quando è stata restaurata la bellissima chiesa di Sant'Anastasia, grazie a delle gentilissime restauratrici, attraverso l'impalcatura, sono rimasto proprio a vederlo da vicino questo dipinto, sarebbe bello vederlo da vicino, ma è nato lì e ha un significato lì, quindi io nella mia umile considerazione preferisco che rimanga lì. Questo capolavoro di Pisanello, che è stato allievo di Gentile da Fabriano e pensate che quando muore Gentile da Fabriano nel 1427 sta lavorando in San Giovanni da Laterano, non si sa se c'era anche il Pisanello, si sa solo che Pisanello continuerà il lavoro di Gentile da Fabriano e Gentile da Fabriano gli darà anche gli suoi attrezzi di lavoro, vedete, e allievo di Gentile Fabriano, quindi collega di Pisanello è Jacopo Bellini, eccolo qui, questo grande, grande pittore, il quale ha proprio un passaggio tra il gotico e entra nel Rinascimento, ma ha due figli, Giovanni Bellini e Gentile Bellini e anche una figlia Nicolossia, la quale sposa Andrea Mantegna. E andiamo avanti, eccolo qui, questa crocifissione che viene dal Vescovado e questo San Girolamo nel deserto, vediamo gli attributi di San Girolamo, il leone e poi lui che si percuote il petto, vedete. Andrea Mantegna, isola di Carturo, Padova 1431, Mantua 1506. Allora, ecco qui, il Vasari definisse Mantegna Mantovano, prima Padovano, dopo Mantovano, eccetera. In realtà, signori, Mantegna nasce nel territorio di Vicenza, perché nel 1431 isola di Carturo era nel territorio di Vicenza. Ho messo Padova, perché nessun testo mette Vicenza, in realtà era sotto il territorio di Padova. Questo grande, grande, grande artista è nel gota degli artisti, il quale, qui vediamo l'altare del Santo a Padova di Donatello, restaurato, lo vedete, ma non era così. Era così, vedete. Quindi, lui guarda Donatello, Donatello, signori, mi prendo tutti i rischi, è l'artista più apprezzato, più imitato, ma non solo nella scultura, ma anche nella pittura. Il suo rilievi è stiacciato di Padova e anche gli altri, hanno un'impeginazione architettonica, prospettica, una complicità narrativa che anticipa la pittura di Andrea Mantegna e di Piero della Francesca. Donatello è l'artista senza il quale, a mio avviso, non si sarebbe fatto il rinascimento. Ecco, Donatello è il vero maestro di Andrea Mantegna, sebbene non era in realtà il suo maestro. Lui apre una bottega a Padova nel 1443, rimane lì ben dieci anni, fa l'altare del Santo a Padova e il Gattamelata. Questa è la grandezza di Donatello. E guardate, innanzitutto è stato restaurato l'altare da Camillo Boito, che poi ha restaurato altre cose a Venezia eccetera, così Mantegna. Ecco, la Pala di San Zeno è lo spartiacque tra la pittura prima della Pala e dopo. Qui porta tutti di stilemi la cultura del rinascimento. Vediamo, innanzitutto sembra un trittico ma è molto unito, è unito ed è l'abate Correr che lo chiama il nostro Andrea Mantegna. Avete festoni di frutta, marmi policromi e quindi guardate, guarda a Donatello. E un'altra cosa che i pittori veronesi impareranno, pensate che Andrea Mantegna si fa aprire la finestra nell'abse di San Zeno di modo che la luce reale venga a trovarsi illusivamente nel dipinto. E qui vediamo Antonio Badile, il quale guarda Andrea Mantegna. Vediamo ancora nella Madonna dei Cherubini, proveniente della chiesa di San Silvestro, vedremo tutta la provenienza delle chiese perché sono state chiuse nel preudo napoleonico e c'è una precisa ragione perché Napoleone fa chiudere le chiese ma ne parleremo magari un'altra volta. Eccolo qui, vedete. Ma poi Mantegna per la chiesa di Santa Maria della Vittoria fa questa pala, la Madonna della Vittoria fatta per la vittoria di Francesco Gonzaga che lo vediamo nella battaglia di Fornovo. E poi vediamo l'altra pala che lui fa perché per Santa Maria in organo, vedete, che oggi si trova al Castello Sforzesco. Quindi gli artisti che noi andremo a vedere guarderanno soprattutto questi ma anche Antonello da Messina. Antonello da Messina quando viene a Venezia nel 1475 lavora alla pala di San Cassiano che servirà da magistero non solo ma anche per grandi artisti come Giovanni Bellini e altri grandi artisti. E poi questi artisti guarderanno a Leonardo da Vinci, lo sfumato. Quindi ecco è un inizio molto importante per stabilire dove i pittori che andremo a vedere in Castelvecchio guarderanno senza magari ritornare ogni volta a sogno dipinto. Questo ha guardato Leonardo, questo ha guardato Michelangelo e infatti Michelangelo in cui si guarda soprattutto la drammaticità, la tensione muscolare, la plasticità. In Leonardo si guarda la prospettiva aerea, lo sfumato e anche in Raffaello si guarderà la forma. E questi due dipinti più vicini a Verona, a destra bellissima Santa Sicilia di Bologna e a Piacenza la chiesa di San Sisto. Perché non è che i nostri pittori potrebbero entrare alla Cappella Sistina, ma c'era talmente un mercato di disegni. Pensate che il Tiziano nella scuoletta del Santo porta un anno dopo la cacciata dei progenitori dal paradiso terrestre. Qui c'era lo spionaggio, ecco possiamo dire benissimo lo spionaggio. E di Leonardo i nostri artisti veronesi non potevano vedere il Cenacolo. Il Cenacolo era domenicano, non si poteva entrare, non era una chiesa pubblica come la chiesa di San Francesco Grande, vedete, eccolo qui. Questo è molto importante per iniziare. Sentite cosa dice Vasari su Raffaello. Mandò a Verona un quadro di Conti Canossa nel quale una natività di nostro Signore bellissima con un'aurora molto rodata e la Madonna della Perla che si trovava a Verona. Quindi c'era un'opera di Raffaello a Verona. Ma poi i pittori guardano anche all'impostazione architettonica di un dipinto. E chi c'era? C'era Michele San Micheli, guardate la cappella Pellegrini e poi il tornacoro che Michele San Micheli senz'altro ha visto nella porta del paradiso di Lorenzo Ghiberti. Ecco vedete, è molto importante. Poi in Duomo a Verona c'era questa pala del Tiziano in cui vediamo l'altare incorniciato dall'architettura di Jacopo Tatti detto il Sansovino. Altri che influenzeranno i nostri pittori è il Parmigianino e il Correggio. Vedete, ma poi dobbiamo sapere che Verona è la seconda Roma. Quindi ci sono delle realtà veramente di grande aspetto architettonico come l'arco di Gavi di Lucio, Vitruvio e Cerdone che non è il Vitruvio più famoso sebbene sono della stessa stirpe di Vitruvio. Vedete perché? Ecco, Lucio era il nome, Vitruvio era la stirpe e Cerdone era il cognome. E anche i portoni borsari o borsari che era l'antica Porta Giovia. Eccola qui l'antica Porta Giovia. Questi sono i portoni borsari e qui era chiamata la Porta Giovia perché c'era il Tempio di Giove. Verona è la seconda Roma sotto il profilo di quello che c'è di architettura. Poi iniziamo con Giovanni Maria Falconetto, Augusto e la Sibilla nel convento della Santissima Trinità. Non si sa chi è la Sibilla oppure la Sibilla che richiama la venuta di Cristo. Michelangelo nella Cappella Sistina ne mette cinque di Sibille che richiamano la venuta di Cristo. Sibilla Retrea, Cumana, Persica, Delfica. Vedete? Eccola qui. E quindi Carlo Crivelli, la Madonna della Passione, Carlo Crivelli viene da quella scuola di Padova dove viene anche lui dalla scuola di Francesco Squarcione. Pensate cos'era Padova? Padova il periodo che è venuto Donatello era la capitale europea d'arte. Una concentrazione di grandi artisti, ci vanno i Vivarini, ci vanno i Bellini, c'è Donatello, passa Filippo Lippi, passa Andrea del Castagno, passano i più grandi artisti fiorentini in quella Padova che non arrivava neanche 20.000 abitanti. Questa è la meravigliosa città di Padova. Andrea Mantegna, e andiamo avanti. Venezia ha la chiesa degli incurabili. Ecco questo dipinto Mantegna lo fa nel 1500, quindi entriamo nel museo dalla parte che va verso il Rinascimento e questo l'ha fatto nel 1500, ma lui non è andato a Venezia. Lui lavorava per Francesco e Isabella d'Este e Gonzaga, in un momento, signori, molto critico per Andrea Mantegna. Non morirà ricco, morirà povero Andrea Mantegna, perché i Gonzaga non sapranno restituire quello che lui ha dato ai Gonzaga. Chiesa degli incurabili, quindi anche una chiesa senza troppa importanza, distrutta più tardi, e si trovava nella cerchiera di dorso duro. Lui lavora alla Cappella Cornario in Santa Maria Gloriosa ai Frari, ma però c'è Giovanni Bellini, c'è il cognato, c'è Gentile Bellini, i due cognati, che lavorano. E quindi Alvisi Vivarini, altra grande scuola veneziana. Eccoli qui, queste due opere del Vivarini. E poi Vittore Carpaccio. Guardate che opere che abbiamo all'interno di Castelvecchio, con Santa Dorotea e Santa Catrina Alessandria. Vediamo la destra con l'attributo della ruota. Eccolo qui, Giovanni Bellini. Giovanni Bellini è l'artista che amo di più. È l'artista che non ha inventato come Leonardo da Vinci, come Michelangelo, qualcosa, ma ogni mattina si alzava per imparare qualcosa. Pensate, lui figlio di Jacopo, cognato di Andrea Mantegna, nel 1475 arriva Antonello da Messina a Venezia. E non è che Antonello da Messina porti soltanto, porterà anche via qualcosa di Giovanni Bellini. E poi pensiamo all'arrivo di Leonardo, che lui guarderà Leonardo. Conosceva Piero da Francesca e poi ha avuto un allievo che si chiamava Tiziano e guarderà anche il Tiziano, anche il suo allievo. Eccoli qui, questi due dipinti votivi per la casa, erano privati, in cui hanno sempre un significato i dipinti che si facevano allora per le case. Vediamo sulla destra la Madonna. Il bambino gli interroga il suo futuro. E la Madonna, vedete, che fa il numero tre per dire tu sarai della Trinità. Due dipinti così, sulla destra, oltre a Castelvecchio, si trovano a Berlino e a Madrid, mi sembra. E a Amsterdam, scusate. Quindi erano dipinti per la casa. Liberale Bonfanti, questo grande artista, vediamo il quale, lui va a lavora, fa i codici miniati per la sacristia, assieme a Giorno da Cremona. Rimane a Siena dal 1466 al 1478. Lavora questi miniati, signori, nella chiesa che io ritengo la più ricca del mondo, sotto profilo opere d'arte. Non vi sto a elencare gli artisti, ma la chiesa del Duomo di Siena, poi immaginiamo il pavimento, eccetera, ma vi possiamo dire gli artisti, Donatello, Jacopo della Quercia, Igui Berti, Gian Lorenzo Bernini, l'altare Piccolomini di Michelangelo. Quindi chiamare il nostro liberale da Verona in un posto leggero, vuol dire che era veramente molto, molto quotato. Vedete, e lui guarda nella deposizione della croce di Castelvecchio, guarda a Duccio di Boninsegna. E andiamo avanti, Francesco Bonsignori, eccolo qui con quella immagine preziosissima, bellissima di questa è meravigliosa. Madonna che guarda il bambino che è già sulla pietra dell'Unzione. Vedete, e poi sulla destra ancora il Bonsignori. E ancora il Bonsignori per la chiesa di San Fermo, l'altare del Bovo, Domenico Morone. Vedete, questa bellissima madonnina di Domenico Morone. e poi Francesco Morone. Eccolo qui, nella chiesa di San Bernardino c'era questa lavanda di piedi, che in realtà questo dipinto si trova al Cavalcaselle, si trova al Museo Freschi Cavalcaselle. E a proposito di Cavalcaselle, questi due sono due a freschi staccati. Uno è stato staccato nella chiesa di Santi Nazario al Celso, che si trovava nell'aula del capitolo della Trina Cristiana e questo si trovava a una facciata di una casa. Verona era una città dipinta. I palazzi, c'erano 700-800 palazzi, non esagero, e questi palazzi erano affrescati. Se voi immaginiamo in Piazza delle Erbe, vediamo gli affreschi del Giolfino. E qui il Cavalcaselle, e qui il Cavalcaselle si arrabbia un po', perché non sono stati staccati come lui riteneva. Vedete, perché è veramente un tecnico il Cavalcaselle, quindi conosceva anche la tecnica dell'affresco, come staccare gli affreschi. E poi aveva un incarico statale il Cavalcaselle. Girolamo dei Libri per la Chiesa di Sant'Amaria in Orgono. Vediamo questa bellissima natività che è chiamata la Madonna del Coniglio. Vedete dei conigli. Vediamo il bambino che si gira, guarda il coniglio. Quello stesso coniglio lì, fra Giovanni da Verona, farà una tarsia per la Chiesa di Sant'Amaria in Orgono. Altro luogo stupendo. Guardate, signori, mi prendo tutte le responsabilità. Venezia, Roma, Napoli. Poi, a mio avviso, dopo queste tre città, la città con più chiese di un certo prestigio, non solo architettonico, con Firenze e metto Verona. Quindi, ecco, Verona. Pensate a tutte le chiese, ma anche a quelle 12 chiese gotiche romaniche, vedete. Quindi, eccolo qui. Siamo nella Chiesa di San Giacomo alla Pigna. Poi la Chiesa di Santa Maria della Vittoria, sempre di Geronimo dei Libri. Vedete che la mano destra della Madonna richiama la palla della Vittoria di Mantegna. La Chiesa di Sant'Andrea, la Madonna della Quercia. E poi Nicola Giolfino, altro grande artista, che viene dalla Chiesa di San Matteo con Cortine. E ancora dalla Chiesa di Santo Stefano, questa opera di Giolfino. Signori, se noi andiamo in Santa Anastasia, in Duomo, in San Fermo, in tutte queste chiese, in San Zeno, ci sono delle opere stupende. Ripeto, fino all'estremo. Conosciamo la nostra città, conosciamo la nostra Italia. Dopo andiamo all'estero. Vedete, Giovanni Francesco Carotto. Eccolo qui. Sentite cosa dice Giorgio Vasari. Giorgio Vasari è venuto a Verona due volte, nel novembre del 1541, nel maggio del 1556. Scusate, nella Tavola Olio, tre agnoli grandi, dice Vasari, a Raffaello in mezzo, Gabriello, noi chiamiamo Gabriele, lui chiama Gabriello e Michele dai lati. Vedete. E critica il nostro artista dicendo che le gambe sono troppo sottili. E lui dice, l'artista, non lo dice a Vasari, perché Vasari è venuto due volte a Verona, però aveva un Domenicano il quale lavorava per il Vasari, che era Marco De Medici. E dice, hanno le gambe sottili perché gli angeli devono volare. E poi guardate questa tentazione di Cristo in cui vediamo sullo sfondo il lago di Garda. E qui siamo veramente nella pittura di Leonardo. Eccolo qui, ancora richiama Leonardo da Vinci. Pensate che quel ragazzino lì tiene in mano il più antico disegno, l'immagine del più antico disegno di un bambino. Andiamo avanti. Per l'isola della Scala, che fa nella chiesa di Santa Maria Maddalena, questa lavanda di piedi. Sullo sfondo vediamo ancora il lago di Garda. E poi Giovanni Carotto con questa crucifissione. In questa crucifissione, signori, c'è una grande curiosità. Guardate, il modello che è San Giovanni l'Evangelista ha sei dita. È una curiosità. Qualche volta ci si diverte guardando le curiosità. Sei dita. Ha sbagliato il pittore o il modello aveva veramente sei dita? Troviamo subito la risposta. Nella sposalizio della Vergine di Brera di Raffaello, il modello di Giuseppe, di San Giuseppe, ha sei dita. Quindi non può aver sbagliato Raffaello e anche il nostro artista Giovanni Carotto. E qui siamo veramente, anche qui, un grandissimo artista. Vedete quanti giganti ci sono all'interno del Museo Castelvecchio. Paolo Morando, detto il Cavazzola, il quale vediamo ritratto con la barba, eccetera, nel dipinto che andremo a vedere, Giovanni Carotto sulla sinistra e Francesco Morone sulla destra. Ecco, era considerato il Raffaello di Verona. Ma come si veniva a contatto anche con l'Europa di Raffaello? Perché senz'altro a Palazzo Canossa, per vedere la Madonna della Perla, la gente non poteva andare e venire, eccetera, nei palazzi dei Canossa. Raffaello è stato veramente il primo imprenditore. Grazie a Marco Antonio Raimondi, ma anche lui, faceva le incisioni e i dipinti, non potevano compararli tutti, ma queste incisioni che Raffaello vendeva giravano per l'Europa. E quindi veniva conosciuta, questa è un'incisione di Marco Antonio Raimondi, quindi veniva conosciuta l'arte di Raffaello. Guardate, innanzitutto la sala, come è ristrutturata da Carlo Scarpa nel museo di Castelvecchio. Eccolo qui. Innanzitutto quest'opera si trovava nella chiesa di San Bernardino, nella cappella Avanzi o della Croce. E i due dipinti che vediamo sulla destra, San Bartolomeo, che si trovano all'interno del museo, e San Francesco, erano la predella di quella crocifissione, di quella crocifissione che non è l'opera del nostro Paolo Morando, ma del Morone. Quindi guardate, tutte quelle opere le vediamo qui. Oggi in sito della chiesa di San Bernardino c'è una coppia. E andiamo. Eccolo qui, vedete, guardate che meraviglia. Qui siamo veramente in una pittura meravigliosa. Guardate, sullo sfondo, vedete che manca, nella pala manca la crocifissione. Eccolo qui. Quindi vediamo sullo sfondo, vediamo Castel San Pietro, vediamo Verona, vediamo addirittura le casuppole del teatro romano, che era coperto il teatro romano. Verrà scoperto, verrà non solo scoperto, ma completamente restaurato e messo alla luce solo ben dopo, capite. Eccolo qui, vediamo queste quattro opere. Vediamoli con la nozione di spine, la flagellazione, l'andata al Calvario e l'orazione dell'orto. E avevano anche la predella. La predella con San Giovanni, il Battista, San Giuseppe, San Bonaventura e San Bernardino da Fetre. Ripeto, si potrebbe rimanere qui delle ore. Eccolo qui. E passiamo a Paolo Farinati, il quale, vediamo, Donna Ena fu del fuor Antonio Badiglia, maestro, si sposò al signor Paolo De Cagliari Pittore. Questo qui è il documento che certifica il matrimonio di Paolo Cagliari Toveronese, allievo di Badiglia III, che si trovava nella chiesa Santa Cecilia, oggi si trova nell'archivio di Santa Anastasia. Vediamo i testimoni di Andrea Pittore che sembra che sia Andrea Schiavone. Eccolo qui, il grande Paolo Farinati. Vedete come scende direttamente la plasticità e la tensione muscolare dalla Cappella Sistina. Andiamo da Antonio Badiglia III, lo vediamo nella chiesa di Santo Spirito, sulla destra, chiamata anche in Madonna Piazza dei Signori. Qui, senz'altro, ho visto la pala Pesaro del Tiziano dei Frari. Ma per la chiesa di Santo Nazario e Celso, vediamo l'artista, il nostro Badile, Antonio Badile. Vedete? Ma quello che ho sottolineato sulla destra è il giovanissimo Paolo Cagliari, detto il Veronese, il quale tiene in mano i strumenti del martirio e la palma del martirio di San Biagio. Eccolo qui, questo gigante Veronese, questo grande artista, il quale va a lavorare a Venezia, in Palazzo Ducale. A differenza di Tiziano e Tintoretto, il Veronese conosceva il disegno, conosceva il disegno, perché Verona, come vi ho detto, era proprio in mezzo all'arte, il parmigianino e poi il moreto da Brescia, altri artisti e poi artisti che venivano da Venezia. Eccolo qui, questa è, si trovava nella chiesa a Ferro Maggiore e la palma bevi l'acqua all'azzise. Guardate che curiosità, alla Galleria degli Uffizi si trova il prototipo di questa pala. La pala è di centimetri 223x172, mentre il prototipo, vedete, è piccolissimo, è 50x36. Ma guardate la differenza. Partiamo da sopra. La Madonna non sta leggendo, mentre nella pala di Castelvecchio legge. Non c'è il papagallo nel prototipo, chiamiamolo. Lì c'è il papagallo. Il significato del papagallo non è detto che sia solo perché era un animale, un animaletto profano, no. Il fatto stesso, questa è una cognizione personale, che lei inizia a leggere. È un richiamo al papagallo, perché il papagallo ripete e i bambini dovevano ripetere quello che diceva la mamma fino all'età di 5 anni. E poi, innanzitutto, quella colonna che richiama l'Ecclesiastico IV, che richiama l'Immacolata Concezione. E poi vediamo che San Ludovico da Tolosa non ha la barba, invece lì ce l'ha la barba. Ma ancora molto più importante, vediamo che il braccio di San Giovanni il Battista della Galleria degli Uffizi è aperto, mentre qui invece è chiuso verso la croce Astile. E poi vediamo i committenti, non sembrano quasi loro. Quindi lui ha iniziato prima a fare questo. E questa che si trovava nella Sacrestia di Santa Maria delle Grazie, della Vittoria Nuova, c'era Benedetto Torglioni. Quelle immagini sulla destra, quel ritratto che l'ho preso dalla pala centrale dell'archivio di San Sebastiano a Venezia, è lui che chiama il veronese a lavorare nella chiesa di San Sebastiano. E nella chiesa di San Sebastiano, dove il veronese è seppellito, proprio vicino al presbiterio, ha lavorato vent'anni. Guardate che meraviglia. Quello con la barba è Giuseppe da Rimatea, che sembra quasi a dire fate piano. Vedete proprio la deposizione della croce, sebbene la croce la vediamo là sopra. E che ci porta al seppellimento di Cristo, quindi ci porta al sepolcro. E poi vediamo un richiamo veramente a pittori come il Correggio e il Parmigianino. Vediamo invece sulla sinistra San Giovanni l'Evangelista, che sembra quasi avere fretta, Nicodemo che tiene il Cristo, ma per dire una cosa molto importante, come l'arte ha corsi e ricorsi storici. Guardate questo gesto di Gesù Cristo con il braccio, da dove nasce? Nasce dalla statuaria antica, passa per i disegni di Andrea Mantegna, passa per la pietà di Michelangelo, passa per la parabaglione Raffaello e per la deposizione di Caravaggio e arriva fino a Jean-Louis David con il dipinto di Marat. Ma c'è un nesso tra il dipinto di Veronese e il dipinto della pietà. Vedete che Nicodemo non tocca il corpo di Gesù, così come la Madonna non tocca nella pietà il corpo di Gesù, perché non si può toccare, è ormai sacro. La Madonna non lo tocca perché lei è Mater Ecclesia e il nostro Gesù è corpo di Cristo, Corpus Christi. Vedete, è senz'altro quindi il nostro Paolo Cagliari ha visto la pietà. E arriviamo a Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, con questa adorazione dei pastori che viene da Belluno dalla Chiesa di Santa Croce. È bellissima quest'opera, quest'opera è bellissima. Tintoretto, sappiamo benissimo quanto ha lavorato a Venezia, nella scuola di San Marco, nella scuola di San Rocco, scuole grandi e lui veramente è una creatura dei disegni di Michelangelo, è una creatura dei disegni di Michelangelo, questo grande grande artista. Eccolo qui. Vediamo proprio queste figure plastiche che scendono direttamente dalla volta della Cappella Sistina. E Tintoretto aveva molti disegni di Michelangelo e ne ha anche riprodotti tantissimi. Il nostro Jacopo Robusti, detto il Tintoretto. Ma non mi dilungo sul Tintoretto perché un mese e mezzo fa ho fatto una chiacchierata sulle opere nelle chiese di Venezia di Tintoretto. Ed è il nostro Licisco Magagnato che compra il 31 ottobre del 1956 per 8 milioni e 50 mila lire, la bella cifra, compra quest'opera. Vediamo. Eccolo qui. E concludo dicendovi, andate nel nostro meraviglioso Museo Castelvecchio. Ma non andate da soli. Ci sono delle guide stupende, bravissime, di grande cultura che vi trasmetteranno anche la loro passione. Quindi, ecco, teniamo alte le nostre meravigliose città. Lunedì prossimo, lunedì prossimo, parleremo del Museo Ambientale Archeologico di Legnago. E ci parlerà la dottoressa Valentina Donadel. Termino sempre ringraziando il nostro Alessandro Docali, perché senza il quale sarebbe molto difficile la mia presenza online. Grazie mille. Grazie mille.